Spinta in avanti per la realizzazione del ponte sullo stretto. 35 senatori forzisti, prima firmatari alla senatrice calabrese Silvia Vono, hanno comunicato alla presidenza del senato il disegno di legge contenente disposizioni per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Inserite nell'elenco delle opere strategiche per l'Italia e per l'Europa, la realizzazione del ponte era stata definita un'opera senza la quale verrebbe meno la funzionalità e l'efficienza di quello che è stato considerato il corridoio comunitario della rete Tenti. Una struttura la cui realizzazione, sostiene Silvia Vono, dovrebbe favorire l'integrazione dei paesi europei in vista di un mercato unico e sostenere una politica per la decarbonizzazione dei trasporti ed un ruolo attivo dell'Unione Europea nella lotta globale ai cambiamenti climatici. Quella del ponte è una storia che parte da lontano ma che non ha mai visto la conclusione, seppur si fosse arrivati addirittura ad appaltare l'opera negli anni scorsi. Abbiamo pensato di presentare questo disegno di legge, aggiunge, affinché il ministro e tutto il governo si impegnino per davvero ad individuare il percorso per realizzare l'infrastruttura. Lavoreremo per l'incardinamento in commissione lavori pubblici a cui è stato assegnato. Non sappiamo se il disegno di legge arriverà mai in porto, però è stato assegnato per aprire un dialogo col governo e con tutti i portatori di interesse che ammetteremo alle audizioni da programmare. Un primo segnale politico conclude cui dovrebbe seguirne altri, anche a cura dell'intergruppo parlamentare proponte.